Nei giorni scorsi c'è stata l'inaugurazione dell'anno giudiziario con la relazione del Procuratore Generale della Corte d'Appello di Roma. Irregalità negli appalti, reati ambientali, droga, truffe, violenza sulle donne e sui bambini sono la fotografia della giustizia all'interno del Tribunale di Frosinone, secondo quanto ha illustrato il Procuratore Giuseppe De Falco, che ha ricordato anche i processi per gli omicidi di Emanuele Morganti e di Gloria Pompili. Significativo da quanto emerge dalla relazione il passaggio che fa riferimento agli appalti pubblici. È aumentato enormemente, come scritto, il numero di procedimenti per peculato e per l'affidamento degli appalti pubblici. Si ha l'impressione, recita la relazione, di un'illegalità diffusa nel territorio, e cioè l'affidamento, da parte di piccoli comuni, di appalti d'importo non ingente sulla base di inviti per la presentazione di offerte, rivolte ad una cerchia ristretta di imprese che sembrano far capo alle medesime persone. Come dire che a vincere gli appalti sono sempre gli stessi. Il più delle volte queste gare sono costellate da false offerte di altri operatori per rappresentare una concorrenzialità in realtà inesistente. Sotto accusa soprattutto i dirigenti tecnici che, come scritto nella relazione, creano veri e propri centri di potere all'interno delle amministrazioni. In crescita poi i reati ambientali hanno un notevole impatto. Si tratta di emissioni in atmosfera, scarichi anche industriali e smaltimento illegale di rifiuti in relazione alla presenza di discariche abusive. Presenti anche casi di emissioni maleodoranti, rimpianti industriali. Ci sono poi i reati di violenza su donne e bambini, purtroppo in crescita, come sono in aumento quelli per maltrattamento e per stalking. Nella relazione è scritto che le denunce sono aumentate, ma l'impressione è che sia solo la punta dell'iceberg. È sottolineato poi il dato relativo agli abusi sui minori. Occhi puntati poi sul traffico della droga e sullo spaccio e sull'aumento notevole delle truffe. Diminuiscono furti e rapine, anche se il fenomeno delle rapine in villa desta allarme sociale. Infine ci sono sotto controllo i tentativi di infiltrazione dei clan per quanto riguarda l'economia legale.